Quindi qui sono i resti di una grandissima grandinata Guarda qua che roba Siamo ad agosto, il 12 agosto a Colle Torto in Molise 12 agosto 2017 in Colle Torto, Molise August 12 2017 Big, big, big Ice rain Anche la porta Questa è la grattachecca? Granita? Buongiorno da Colle Torto Buongiorno da